Eccoci insieme, rieccoci insieme. Per due anni basta, sempre diciamo le stesse cose. Siamo in onda, siamo in onda, eh? Siamo in onda. No, è sempre la stessa cosa dobbiamo dire ancora. E basta, abbiamo chiuso, argomento chiuso, pensiamo alla partita di domenica. Beh, allora dai, facciamo così. Parla tu adesso. No, io innanzitutto ho due lettere da smaltire. La prima è della signora, guarda un po', Chiara Panara, che da Pavia mi scrive che vorrebbe sapere qualcosa di concreto perché lui la conosce soltanto attraverso il televisore di Paparesta. Vogliamo mandare in onda prima questa? Andiamo un po'. Ecco qua, Gianluca Paparesta, commercialista, dopo domani, cioè domenica in occasione di Spezia Bari compie gli anni. Auguri, diamo anche gli auguri. 45? 45. Auguri a Gianluca Paparesta. Lui è dalla stessa classe di Conti. Speriamo che abbia lo stesso successo di Conti con il Bari. Vabbè, abbiamo detto 135 partiti in Serie A, 51 in B, 54 in C, 9 in Coppa Italia e 18 gare internazionali. Dal 2011 è opinionista a premio. È già assessore comunale del Comune di Bari dal 1 agosto 2009. Poi si è dimesso. esordio in A, il 16 di maggio del 1998. Nel 2003 diresse al torneo delle Universiadi. Poi ha arbitrato sempre, questo particolare, con un fischetto di colore blu. Lo sapevi tu? No, lo sapevo. Allora, ad ottobre dell'anno scorso è stato scelto come club manager del Bari. Poi a febbraio si è dimesso per contraste anche con alcuni esponenti del vertice tecnico bianco-rosso. Io posso dirti che queste fotografie sono tutte una serie che ho voluto preparare che ha scritto su un informatore internazionale, esattamente rinolo russo. Dice, Gianluca Paparesta aveva dato uno scossone alla società del Bari il giorno delle sue dimissioni ed aveva promesso ai tifosi, soprattutto, che avrebbe cercato e trovato potenziali acquirenti. Così è stato. Oggi, senza dubbio, con tutte le difficoltà che un'operazione di questo tipo ha comportato e comporta, è riuscita nel proprio intento. È un gesto d'amore nei confronti della sua città, della sua squadra e dei suoi tanti tifosi che ora lo circondano d'affetto. Questa è la verità. E allora bisogna, signora Chiara, lei che segue tramite internet, mi sembra, anche Tele Bari, è stata accontentata e le diciamo ancora di più che c'è un altro telespettatore che si chiama Antonio e che insieme con il fratello che si chiama Pasquale vuole sapere, e questo mi pare che lo possiamo vedere, vuole sapere come si svolgeranno gli eventuali play-off che il Bari potrebbe accedere, specialmente se non perde alla Spezia. Vogliamo vedere com'è? Andiamo. Eccola qua. Vuoi leggere tu? Andiamo. Martedì, 3 giugno, turno preliminare, gara unica, ore 18, sesta contro settima, ore 20 e 30, quinta contro ottava. Al momento il Bari è sesto, giocherebbe in casa contro il Crotone, ad oggi. Sì, ad oggi. Partita secca, o la vola spacca. Poi cominciano le semifinali che sono su gara di andata e ritorno, quindi abbiamo l'8 giugno la semifinale di andata, l'11 giugno la semifinale di ritorno e qui bisogna capire il Bari se andrà avanti e con quale piazzamento. Domenica, 15 giugno, la finale di andata, in caso ovviamente della squadra peggio classificata, mercoledì 18 giugno conosceremo il nome della terza squadra che andrà in Serie A. Quindi non prendete impegni sino al 18 giugno, poi vedremo che cosa accadrà. Se questo dovesse accadere? Ma tu ci pensi se dovesse accadere? Merito di tutti quanti, è ben indeso. Anche di uno che oggi abbiamo scelto come personaggio della settimana perché raggiunge effettivamente a domenica alla Spezia le 100 partite col Bari. Gli Arruota, Defendi, che ne ha 95. Però io direi che oggi potenzialmente il vero capitano del Bari è questo, Luca Cipitelli. Vediamo. Cipitelli, 100 partite, 99 adesso. Cipitelli ha fatto 25 partite il primo anno con Torrente senza gol. Poi l'anno scorso, sempre con Torrente, 37 partite e 5 gol. Poi quest'anno, finora, ci mancano ancora altre due partite, ne ha fatte 38 per 6 gol. Il totale 11. Ha esordito col Bari il 5 ottobre 2011 con la vittoria di Crotone 1-0, gol di Dos Andos. Ve lo ricordate? 100 partite come? 100 partite col Bari, le hanno già ottenute in passato. Cavasin, Laurieri, Pienti e Rideout. Con 95 presenze, dicevo prima, ci sta ora, Defendi. Questo è Cipitelli con informazione. Vediamo Cipitelli quanto esulta dopo un gol. Vediamo Cipitelli oggi, addirittura, dopo aver segnato un gol per il Galletto barese. Ecco il Galletto barese. Ma rimane il Galletto nel logo, no? Rimane il Galletto nel logo o no? Rimane il Galletto nel logo o sparisce il logo? No, c'è la cresta, un po' di cresta. Un po' di cresta. Tu l'hai già visto? Vedi, come sono, come è quella della Roma, quella dell'Inter, non so. È architetticolato così, è fatto. A me piace, poi ognuno è padrone di scegliere come vuole. Basta che togliamo questo, deve essere tolto tutti. Hanno fatto bene, hanno fatto poco bene, hanno fatto male, hanno fatto super bene. È passato, come è passato per Brunetti, come è passato per Tepala, come è passato per Annoscia. Oggi ci troviamo di nuovo ad un'era diversa, ad un'era che soprattutto deve essere affrontata dai giovani. Ecco perché noi abbiamo avuto l'esempio che si doveva cambiare e i 30.000 che già stanno pronti per andare a tifare il Bari contro il Novara. È l'esempio la palistiano. Non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire. Allora, adesso andiamo un po' sulla partita alla Spezia, giusto? Sì. Abbiamo qualche precedente da quelle parti. Come no, anzi. Ma ora dobbiamo, oppure andiamo, sospendiamo? No, 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 andiamo. Andiamo avanti. Ah, sì, due sono. Ah, ecco perché io vedo sempre la tua trasmissione. I minuti sono gli stessi. Allora, i minuti sono gli stessi. Allora, andiamo avanti alla Spezia. Noi abbiamo giocato sette volte. Una vittoria del Bari, due pareggi e vittorie dello Spezia. Sono tre. Non è poi male, 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 male. Io, quello che posso dire, la prima immagine che abbiamo è quella del 1930, quando facciamo due a due. Per la verità, in quella partita, prima segnò due gol lo Spezia e noi pareggiammo. Poi dopo quella partita, passiamo alla partita del 1941, quando vincemmo il campionato. E noi facciamo uno a uno alla Spezia e questa era la difesa del Bari fissa. Fusco, Costagliola e De Boni. Fusco, Costagliola e De Boni in quella partita. E fu uno a uno. Il portiere era basso. Poi abbiamo una sconfitta alla Spezia nell'anno di Edrisasso, della serie B, che cambiamo esattamente nove allenatori. Nove allenatori in un solo campionato. E qui abbiamo Voros alle spalle del portiere cortigiani, che ne combinò di tutti i colori. In senso negativo. E quindi andiamo avanti. E questa è l'unica vittoria che noi abbiamo ottenuto alla Spezia. E quell'anno, che era arrivato Materazzi, in quella partita giocarono sette ragazzi della primavera. Ivan, Loseto, Fiorentino, Puccini, 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 poi Crimi, poi Eramo. E vinciamo due a uno con un gol iniziale di Scrigna. Poi dopo, questa è quella di Santorufo, che fumo maltrattati alla Spezia. Ed è stata veramente una partita che noi potevamo stravingere. E che l'arbitro è anche, perché con sedì tutti i falli possibili della Spezia contro di noi. E poi è stata la partita dell'anno scorso, che perdemmo 3 a 2. E qui segnò Cepitelli un gol al 58esimo. Questi sono i precedenti con fotografie vere. Poi l'arbitro. L'arbitro è un figlio d'arte. E come paparesta, Luca Pairetto ha fatto tre incontri. Una vittoria del Bari e due pareggi. Vediamo la fotografia del Pairetto. Speriamo bene. Speriamo bene. Anche perché quello è un campo caldo. Perché è un campo stretto. Oh, tieni presente. E non solo. Ci sono state delle brutte polemiche nei giorni scorsi. In particolare l'allenatore del Lanciano, Baroni, ha detto che ha fatto intendere che nei confronti del Bari ci sia un occhio di riguardo. Tanto per essere chiari. Mi è sembrato questo un po' lo spirito a Cristian Siciliani. Baroni è uno scemo. Perché innanzitutto... Non è uno scemo. Non dire questo. No, è uno scemo nel senso che si lascia andare da delle inchiarazioni che sono fuori posti. Prendo le distanze. Perché noi, e ti dirò di più, con il Latina, con il Latina, andate a vedere che l'arbitro che vota ha avuto quattro. Perché? Perché con il Latina è vero che abbiamo perduto. Potevamo anche perdere. Però abbiamo perduto anche per l'incompetenza dell'arbitro. Ehi, non dimentichiamo che a Brescia, perché non dicono che a Brescia siamo andati a Brescia, abbiamo avuto due rigori inesistenti contro e l'abbiamo perduta la partita. Parlamoci, cari. Fino ad un certo punto sembra bagnarci il pane e il biscotto sul Bari. Basta, basta. I 30.000 devono gridare viva Bari, forza Bari. Dobbiamo vincere anche... 30.000 ad oggi. Dobbiamo vincere anche... Saranno 50.000. Ma sì, andassero a quel paese, resterà nella storia. E il mio libro sarà una cosa, una splendore. Uno splendore sarà. La palla tornerà ad essere rotonda. Ma sì, ma dopo tutto... La palla tornerà ad essere rotonda. Ma dice la polemica, vogliamo vedere chi è quello e chi è quello. Pensa domani, pensiamo a non perdere domani. Vabbè, vabbè, vabbè. Questa è la verità. Vabbè. Ragazzi... Sei cont... Possiamo stare tranquilli? Ho detto che il calcio alla miniera... No, no sulla partita. Il Bari poi non si capisce. No sulla partita. Il Bari poi è sempre imprevedibile. No sulla partita. Sul futuro del Bari possiamo stare tranquilli? Sion, lo voglio sentirlo da te. Beh, per quello che mi consta, perché in un giorno non è sensitivo... A proposito, dice sì, volevo fare un complimento a Denzo De Santis. Sì. Una persona per bene. Una persona per bene. Una persona che io in una rivista ho citato diverse volte e posso dire che quando interviene lui è veramente il cuore bianco-rosso che parla e questo complimenti e tanti saluti da parte mia, se quando lo vedi, quando lo incontri, quando lo senti. Io non c'ho il telefono, non posso ringraziarlo. È così. Allora, noi siamo addirittura ad arrivo per l'appuntamento di Anno col Bianco e Rosso di B Sport. Ovviamente nelle repliche troverete, immagino, le prime dichiarazioni. Le prime dichiarazioni di Paparesta, perché oggi dal notaio, dopo la stipula, probabilmente dirà qualcosa e spiegherà qualche particolare relativo a questa operazione. grazie Gianni. Buon fine settimana. Non devi ringraziare me, devi ringraziare... Ecco, vedi, quello che vorrei sottolineare è che almeno questi ragazzi non sono alla fine del mondo, però hanno in parte riscattato il disonore che ci avevano buttato i vari... e li sai chi sono. Le abbiamo detto, le abbiamo detto, le abbiamo detto, di quelle cose, perché è stato ignobile e veramente penoso. Buon fine settimana a tutti. Per chi ci segue in diretta, a seguire alle 15.30 da non perdere, il confronto tra i candidati alla poltrona di Primo Cittadino di Bari, Domenico Di Paola e Antonio De Caro. A tutti voi un buon fine settimana. Ciao. Buon fine settimana a tutti.